Prosegue l'offensiva dalle forze dell'ordine per contrastare il diffuso fenomeno della coltivazione di cannabis dopo le due piantagioni scoperti ieri dai carabinieri della stazione di Budoni che hanno portato a individuare mille piantine di cannabis e all'arresto di una persona. Operazione che segue quella di due settimane fa, fatta sempre dai carabinieri di Budoni con la scoperta di 1500 piantine di marijuana e quella individuata nei giorni scorsi a Oliena dalla squadra mobile della Questura di Nuoro, composta da 461 piantine e col fermo di due persone presunte responsabili della coltivazione oggi è toccata la squadra mobile della Questura di Oristano, compiere un blitz antidroga. Gli agenti hanno rinvenuto in agro di Bauladu una coltivazione di cana pendiana composta da oltre 600 piantine dalla varietà Sweetie Scank Auto che ha un THC principio attivo elevato. Il raccolto avrebbe fruttato ai malviventi oltre 600 mila euro. L'intervento degli agenti della squadra mobile supportati dal reparto prevenzione e crimine Sardegna ha consentito di rinvenire in un luogo impervio la piantagione che era dotata di un sistema di irrigazione che avrebbe potuto sopportare oltre 2000 piantine. Trovata anche una tenda in cui probabilmente alloggiava il custode, la coltivazione è stata distrutta, sono in corso le indagini per individuare i responsabili.